Resiste la tradizione del Natale al circo? E come no, è certo che esiste, per loro più che altro, per farli vivere un po' di gioia, di vedere qualcosa di diverso. Ma vi divertite anche voi? Certo, certo che ci divertiamo. Ti diverti tu? E già la tradizione del circo durante le feste natalizie resiste ai cartoon di ultima generazione alla crisi. In fondo, vedere tigri, clown e giocolieri è un fascino difficilmente imitabile. E così lo spettacolo pomeridiano del circo di Lidia Togni, approdato in città il 19 dicembre, si è riempito ogni giorno, mantenendo gli elementi più caratteristici della tradizione circense e aggiungendo vere e proprie chicche come questi leoni bianchi del Sud Africa, arrivati direttamente dal circo di Monte Carlo. E noi come famiglia Togni ringraziamo la popolazione di Bari, che ci ha dato ragione fin dal primo momento, con questo grande successo che abbiamo avuto. Se i bambini sono un classico in platea, ultimamente sotto la grande tenda sono tornati a vedersi anche i ragazzi, in genere scelgono lo spettacolo serale. Beh, sicuramente la scelta di questo spettacolo ha creato interesse anche per una fascia di pubblico che in realtà al circo magari non si vedeva così tanto. Grazie. 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 Grazie.